Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per traffico verso Roma tra Firenze e Suda in Cisareggello in A11 stessa situazione tra Pio 11 raccordo Lucca Viareggio e Capannori in direzione Firenze. In A12 permangono rallentamenti tra Viareggio e l'interconnessione A15 per chi viaggia verso Genova. E arriviamo alla FIPILI per lavori due chilometri di coda tra Empoli Ovest ed Empoli Est verso Firenze sempre verso il capoluogo code a tratti per traffico tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest. E prima di salutarci per il traffico ferroviario ricordiamo che fino al 31 agosto per lavori di raddoppio ferroviario la circolazione dei treni è sospesa tra Pistoia e Monte Catini Terme sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Muoversi in Toscana A15 è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meravigliana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.